Raga abbiamo trovato un bug assurdo che praticamente raga se andate in una cascata della slurp e vi consiglio di prima trovare un'arma e poi di trovare tutte cure per ispezionare se almeno se almeno non mi fa la... se non mi fa la cosa cioè raga praticamente abbiamo vita infinita praticamente se... allora se il bug non funziona io vi consiglio allora... allora prima vi consiglio di trovare una canna poi trovare delle cure almeno... che almeno se non funziona avete delle cure poi andate nella cascata proprio qua sotto e avete vita infinita e vi consiglio anche... E così possiamo sopravvivere fino a tutti che si uccidono Sì e così possiamo fare un botto di vittorie reali facilissime Poi soprattutto anche se muoriamo Cioè anche se muoriamo... cioè fratti ci dà l'Xpeer per aver fatto tutto fatto a noi Sì anche se muoriamo ci dà anche l'Xpeer Poi ci dà anche l'Xpeer La parte è fottutamente colorata Se la vinciamo ci dà comunque l'Xpeer Oh cavolo qua è il momento di mangiare Qua è il momento di mangiare Qua è il momento di mangiare Vabbò mentre peschiamo? E nel mentre io pesco No non mi sta più funzionando a me Un pesce piccolo non è male Vabbò raga Questo è normale perché dovete... Come posso dire dovete avere almeno... Cioè dovete almeno essere almeno vicini ai tipo 100 di vita Capito no? Cavolo io non mi mangio il flopper? I flopper sono più importanti No? Ok Oh qua c'è un pesce piccolo me lo piglio io Salvo te l'avevo detto che funzionava Appunto Ma io trovo solo cecchini Ho qua un altro cecchino Scommettiamo Scommettiamo No un pesce piccolo me lo piglio Ma dimmelo prima che avevi un po' tutto medico Eh vabbò Eh vabbò Vabbò questo è qualcosa di cura Un pompa Cavolo io mi andavo a mangiare il pesce piccolo Oh siamo già in undici Un fucile d'assalto che cavolo me ne frega L'ho trovato non lo so niente io Un fucile d'assalto che cavolo me ne frega Ah ok Raga siamo in dieci Oh un pesce piccolo Ok raga io mi curo Io mi mangio i pesci piccoli per ora E anche io Cos'è? Ma ma ti stai prendendo tutti i tuoi miei pesciolini No io no Ok Faccio Cavolo io sto pure terminando i pesciolini Piccolini Ma poi però Teniamo pure gli spi Per un cerchio Oh cavolo me ne avevo mangiato un clop No no Qua dobbiamo fare veloci stavolta Però porca troia Vai Perché non me lo fa mangiare Vai Vai Niam Niam Oddio Va peggio Dai Ora siamo solo in seta Magna Mi è rimasto solo il prigli Ma pesce Vabbè Se hai qualcosa ti curo io Trovo munizioni Hai subito il No Io ho finito tutto Dai A me mi serve Eh Bruno Niente Ti do delle bende No cavolo Cavolo Vai Nascondi Nascondi Dolore No trofeo Cavolo Cavolo No no Bru No Vabbù Moriamo Moriamo Vabbù vai Bella Bella Comunque raga Guardate Quanti XP Guardate Quanti XP Cioè praticamente Raga Dovete soltanto essere Full di cure Solo questo E basta È solo full di cure Cioè Ti preparati Quindi raga Quindi spero che questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Lasciate un pollicione in su Cioè siamo arrivati addirittura in posizione 3 Quindi spero che questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Lasciate un pollicione in su E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao